Andrà per Federici, ormai manca poco a questo trofalo di Natale, come si svolgerà la manifestazione? Sì, questa è una manifestazione di pesca sportiva, ovviamente autorizzata dalle autorità preposte, per cui la capiniera di porto di Cilecchia e l'autorità portuale, con il patrocinio del comune di Cilecchia. Una manifestazione unica nel suo genere, che non è di fatto una classica gara di pesca, come tanti magari possono pensare, ma è proprio una prepista a quello che è un programma che noi come associazione Emporio della Pesca, Surfcasting e Cilecchia abbiamo in mente, ovvero quella di sensibilizzare appunto le autorità preposte affinché il porto di Cilecchia pian piano, nel rispetto ovviamente di quelle che sono le normative vigenti, possa ridivenire fruibile anche ai pescatori e agli appassionati di mare in genere. Chi vi ha aiutato a realizzare questa gara? Questa è una manifestazione che è stata realizzata grazie alla sponsorizzazione di un importante marchio che è la Scimano, ovviamente che ha occupato la parte appunto finanziaria, agli oneri più costosi. Ci sarà la collaborazione della protezione civile di Civitavecchia, che di fatto sarà presente in logo per garantire la sicurezza dello svolgimento appunto di questa manifestazione, con mezzi di soccorso qualora dovessero servire o comunque anche come semplice presenza. Ovviamente è allertato il pronto soccorso di Civitavecchia, il dottor Pino Di Iorio, Nella Vattispecie, che potrebbe essere un grande amico e anche un grande pescatore, quel giorno sarà appunto disponibile qualora si dovesse rendere necessario, speriamo di no, l'intervento. Io non sono un lupo di mare, ma che differenza c'è tra una gara che si disputa in estate e una che si disputa in inverno? Ma diciamo che questo tofeo di Natale è una tradizione civile di Chiesa, si è sempre organizzata per anni proprio per dare gli auguri ai tanti appassionati di pesca e ai nostri associati. L'abbiamo voluta questa volta allargare la provincia di Civitavecchia, fatto sta che avremo 70-80 partecipanti provenienti da tutta la provincia di Roma, ai quali vogliamo far conoscere le bellezze della nostra città, soprattutto questo porto che per come la vedo io lo si sta già facendo con le importanti opere messe in campo dall'autorità portuale con l'apertura, diciamo, verso la parte storica di Civitavecchia, ma appunto dicevo vogliamo far conoscere il porto di Civitavecchia anche come papabile attrazione per chi ama questi sport acquatici che di fatto comunque rappresenta, come la chiamo io, l'economia del mare.